Luca Fabilla a Ballando con le stelle 2018, lo abbiamo già visto ad Amici 15 Due anni fa ad Amici 15, oggi a Ballando con le stelle 2018. È questo il grande percorso che il ballerino Luca Fabilla ha fatto in due anni. Prima in cerca di un posto nella scuola di Maria De Filippi, adesso sulla pista di Ballando con le stelle 2018. Da allievo a maestro professionista alla corte di Milli Carlucci. Pochi forse lo ricorderanno nella scuola di Amici anche perché i ballerini di latino non hanno avuto moltissimo spazio, in effetti in questa ultima edizione il banco di latino non è stato neppure assegnato e la maestra Titova fa solo delle lezioni ai ragazzi, che sono entrati nella scuola per altre discipline. Luca Fabilla però il suo posto lo ha trovato, lo vedremo nel sabato sera di Rai 1. Milli Carlucci punta su di lui e Luca sarà uno dei maestri di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Con chi ballerà l'ex allievo di Amici? Luca Fabilla diventa maestro a Ballando con le stelle 2018 dopo il talent Amici di Maria De Filippi. Sarà una coppia di Giovani e Belli quella formata da Luca Fabilla e Cristina I.C.H. Lei una bellissima tap model, lui un giovane maestro di ballo italiano. Potrà nascere del tenero? Nel percorso di Ballando si sa, nascono molti feeling tra insegnanti e allievi, vedremo che cosa succederà ma non possiamo far partire il gossip ancora prima che il programma inizi. Vi ricordiamo che la prima puntata di Ballando con le stelle 2018 andrà in onda il 10 marzo 2018. Milli Carlucci è pronta a presentare la tredicesima edizione di Ballando con le stelle. Luca Fabilla nella scuola di Amici 15, ecco chi è il nuovo maestro di Ballando con le stelle 2018. Luca Fabilla è tari 20 anni, è nato a Roma e ha iniziato a ballare all'età di 9 anni. Entra a far parte della scuola di Amici 15 in coppia con la ballerina Benedetta Orlandini, con cui balla latino-americano da 4 anni. Il suo percorso nella scuola di Amici finisce il 30 gennaio del 2016 quando viene sfidato da un altro ballerino di latino, che vince la sfida e prende il suo posto nella scuola. Luca ha continuato a danzare e si è migliorato tanto da meritare il posto di maestro a Ballando con le stelle 2018. e se pot palabra, il suo percorso nella scuola di Amici 15. Amici 15.